cartoon abbiamo un mazzo di carte cuori, quadri, fiori, picche scorro le carte, ne faccio toccare una tocco una carta liberamente il 2 di fiori benissimo ora, il 2 di fiori, la carta che scelto la lasciamo qua in evidenza sul tavolo vediamo il gioco che può fare il mago paolino che è disegnato qua sopra il mazzo di carte il mago paolino ha il suo cappello a cilindro ha il teatro e ha uno strepitoso gioco da farti vedere si avvicina alla testa prende il cappello, saluta e va subito con la mano destra a prendere qualcosa dal cappello, questo qualcosa vediamo che prende la forma di una carta, e questa carta non è una carta qualsiasi, perché è esattamente il 2 di fiori la carta che avevi scelto te liberamente in precedenza il cartoon non è un po' non è un po' non è un po'